Un intero weekend dedicato a questo settore? Sì, tre giorni intensi dedicati a tutta l'edilizia con tantissimi contenuti all'interno di questa fiera come convegni, congressi, workshop e corsi di formazione, quindi tre giorni intensi per tutti i tecnici del settore. La Medilizia è il terzo anno che quest'anno inauguriamo, siamo davvero contenti perché è una fiera in crescita la fiera più importante che si tiene in questo settore, nel settore dell'edilizia, un settore che sta tentando di riemergere un settore trenante per tutta l'economia, quindi davvero contenti di questo evento che cresce sempre di più e speriamo negli anni che sarà sempre più importante. È un settore importante ma anche un momento importante per la città che la terza volta vede un appuntamento così importante ormai a livello nazionale nella nostra città e quindi non possiamo che ringraziare gli organizzatori per aver scelto ancora una volta Palermo e per aver reso ancora una volta fruibile la fiera del Mediterraneo. È un'iniziativa che vede coinvolto tutti i settori dell'edilizia, tutti gli ordini ingegneri, architetti, geometri, periti e quindi è anche un momento importante di formazione, di confronto e di scambio culturale. Con questo diciamo nuovo prodotto che sono gabbie strutturali rigide, un prodotto che viene molto utilizzato al nord d'Europa e stiamo vedendo se anche in Sicilia possiamo aprire un mercato visto che il prodotto si presenta bene.